Vincere partite come queste è un chiaro segnale, l'Ellerra trova subito il vantaggio, spreche l'Ellerra a doppio nella ripresa soffre da morire l'Olimpia Tirus che pareggia l'82esimo ma il 92esimo Colombi. Firma la doppietta che porta la Ciuccarelli ben da più tre su Sansepolcro con tanto di titolo d'inverno in cascina a 90 minuti dalla fine del girone d'andata. Il 4-2-3-1, giovane e frizzante dell'Olimpia Tirus, macina subito gioco, tanto che all'undicesimo il classe 2003 Dita pesca il classe 2005 Cruciani che incorna sul fondo. Alla capolista basta un pallone, il primo buono per metterla dentro con il solito Colombi, Ubaldi preme il piano 5 sulla tastiera, Dario Gol prende l'ascensore e da lì non perdona. 1-0 Ellera, i padroni di casa potrebbero subito raddoppiare ancora con Colombi di testa. L'Olimpia Tirus però ha il merito di non scomporsi, capitano Agostini prova a suonare la scossa dopo il pallone riconquistato dall'ottimo 2005 Mengoni. Nel finale di tempo però l'Ellera, schierata da Ciuccarelli con l'ormai classico 4-4-2, spreca l'impossibile con Piccioli, servito da Marconi, sull'imbucata di Luparini. Palla sul fondo al minuto 44 e i tifosi di casa non credono ai loro occhi. Prima dell'intervallo c'è spazio anche per la conclusione di Paoletti sopra la traversa sul fronte Ternano. Nella ripresa Ciuccarelli, ancora costretta a fare a meno di Polidori, perde anche Luparini e Marconi. Dentro Peluso e Ricci, in campo però c'è solo l'Olimpia Tirus nel secondo tempo, con l'Ellera che aspetta e smette di giocare. Al 64esimo così il neoentrato Giuntini ha subito sui piedi la palla dell'1-1, poi tocca a Fabri calciare sul fondo dopo il servizio in profondità di Mengoni. I ragazzi di Sugoni continuano a spingere, al 77esimo ci vuole la manona di Battistelli. Preludio al gol del Pari che arriva al minuto 82, quando Cola anticipa tutti sul traversone dalla bandierina e firma l'1-1. Fabri potrebbe firmare subito il sorpasso dei Ternani e stesso Destino potrebbe toccare a dita all'89esimo, con Battistelli che però dice no. Il gol così lo trova l'Ellera nell'unico tiro in porta della ripresa. Minuto 92, Lavano la mette in mezzo, difesa dell'Olimpia sorpresa e arma letale Colombo. La mette dentro, gol numero 13, vetta in classifica a marcatori, incredibile ma vero, 2-1-Ellera, la capolista piazza l'allungo. Marco Sugoni, ma che bello l'Olimpia Tirus. Faccio fatica a commentare una partita così perché l'abbiamo affrontata secondo me col piglio giusto perché volevamo dimostrare che magari anche a cospetto delle prime in classifica però facciamo la nostra figura. Secondo me l'abbiamo fatta però c'è un rammarico troppo grande perché credo che oggi, ma quantomeno, il pari era un risultato secondo me giusto. Soprattutto guardando anche il secondo tempo, tanti giovani e di qualità possiamo dire che i giocatori dell'Ellera l'hanno vinta non perché sono stati più bravi ma perché sono più forti. Ma io è dall'inizio che dico che l'Olimpia non ha i nomi ma ha i giocatori, ma non è che lo dico così per polemizzare. Noi abbiamo una buona squadra, cerchiamo di giocare a calcio, certo non è che possiamo giocare a metterla sulla fisicità o su altre cose. Noi cerchiamo di giocare chiunque sia l'avversario e ci viene anche bene, soltanto che troppo spesso torniamo a casa a mani vuote. Fabrizio Ciucarelli, i numeri dicono che l'Ellera è campione d'inverno, se alla fine dovesse essere Serie D in questa probabilmente verrà ricordata come una vittoria più importante. Forse sì, anche perché oggi è stata una partita della capolista, nel senso che ha sofferto contro una delle più belle squadre che ho visto giocare e che ci ha fatto soffrire tanto. Dunque con maggior ragione devo fare i complimenti ai miei perché hanno stretto i denti, hanno fatto gol, abbiamo subito il gol, hanno rifatto gol, siamo stati dentro il palleggio loro, non dico tutta la partita, però abbastanza. Però io dico sempre che vince sempre chi è che segna. Dunque oggi noi siamo riusciti a fare due gol, loro uno abbiamo vinto. Lo ripeto, questa è stata una grossa vittoria di una squadra che sa quello che vuole, soffre al momento opportuno. Fino a oggi, dopo quello che sarà domani non lo so. E complimenti a San Dario Colombi, capo cannoniare con 12 centri. Ma gol intanto fa sempre chi gol ha fatto, come dice Boas Goffa, questa è la storia. A parte questo, ma Dario se noi andiamo indietro ogni anno ha fatto 14, 15, 16, dunque non è. E che lo scopro io, nel senso che magari in quest'anno che io sono qua l'ho messo sempre lì avanti perché secondo me c'è un potenziale enorme e piano piano si sta anche mentalizzando in quello che è il ruolo della punta.